Caramella, ma c'è pure un vestito qui, Caramella sempre presente Ale, se no raga, ne la faccio a parlare Allora, 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 un applauso a Pellegrini Che è pronto per la Roma ragazzi, è pronto per la Roma Pellegrini Torna, torna Luca Pellegrini che già sei pronto per la Roma Du bombe l'anno, pia tipo, o una o du bombe l'anno E raga, è record comunque, poi parlo anche della partita L'unico a 18 anni a pia tipo 3 rossi in una stagione, ma va bene così E poi pure Barella, io dico, ma Barella, ma che cosa ha nel cervello? A parte che c'è tanto da parlare Allora, aspettate un attimo, Torino-Cagliari finisce 1-1 Un pareggio che serve al Cagliari per la salvezza A meno al Torino che voleva andare in Europa E sono contento, sinceramente, mi dispiace un sacco Un sacco, un sacco Per i torinisti, però sono contento e capitemi Perché se sono contento di una non-vittoria del Torino Significa che quest'anno mi avete messo parecchio in difficoltà Quindi complimenti veramente Il Torino è una bella squadra Sono contento che gli abbiamo preso 4 punti in due partite Perché bisognava da sto stacco Perché mi stavano a fare veramente paura Al di là di questo Scemo Zazza Cioè io dico, ma come fai a mandare? Allora, io regà c'è una cosa che non concepisco E non concepirò mai, no? Allora Ci sono tante occasioni Per rischiare il cartellino rosso E non prenderlo Una di queste non è Il mandare a cagare l'arbitro Perché se tu dici Vaffanculo all'arbitro Prendi il rosso Prendi il rosso Ok? Perché devi dire vaffanculo all'arbitro? Cioè Zazza che sta facendo una carriera travagliatissima Da quando ha lasciato Reggio Emilia Travagliatissima Ora si sta cercando di rimettere in gioco Fa gol Finalmente Si fa buttare fuori Perché manda affanculo l'arbitro A me regà mi sembra veramente una cosa limitata Ok? Pasegna il solito Pavoletti Pareggia Pavoletti Il Cagliari pareggia Tra l'altro Per me il Cagliari che meritava il pareggio Torino molto più fisico Molto più cattivo Cagliari che invece Ogni tanto mi sembrava abbastanza propositivo Poi Pellegrini si fa buttare fuori Bravo Pellegrini che sei pronto va a Roma Sei pronto va a Roma Sul papo rosso Cartellino rosso Tiè Quella è l'intelligenza tattica perfetta per la Roma Già mi ti immagino Con Roma-Lazio 0-0 94esimo Lulic che ci avrà 36 anni Tanto ve lo li rimane lì fino a 53 Che sta per uscire fuori dall'area di rigore Sta per uscire dall'area di rigore Spalla alla porta Arrivi te Gli dai un calcio a un culo Al calcio di rigore E perdiamo Io già lo so Già lo so che andrà così E poi Barella Ora io credo che Barella Sia un giocatore veramente molto molto forte Ma molto molto forte Però Sono due anni che lo dico Due anni Diventerà un giocatore da big Titolare da big Quando smetterà di far falli del cazzo Ora che tu sia già ammonito Era abbastanza palese Lo sapevamo tutti no? Cioè sei già ammonito Perché vai a fare un fallaccio da dietro? Cioè La logica Cioè tu sei già ammonito Ok? Perché devi fare un fallo da dietro? Ok che la partita si era nervosita Che si giocava duro Perché? Perché? Boh Vabbè Comunque fatemi sapere la vostra Un commento qua sotto Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete visto No c'è Fiorentina Bologna Poi c'è anche il derby Tra San Peggiano C'è anche un'altra partita Ma non mi ricordo Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Se vi lasciate un mi piace Se vi lasciate un mi piace Se vi lasciate un dislike Grazie Ho visto questo video Buonasera a tallene come sempre Ci vediamo in un prossimo video Ciao